La situazione Covid nelle scuole della provincia di Pescara. Da una parte il dato della ASL, secondo cui le classi in quarantena sono 32 per un totale di circa 800 studenti. Dall'altra invece il quadro tracciato dal vice sindaco con delega alla pubblica istruzione, Gianni Santilli. Il numero mi sembra un po' esagerato, ho letto anche io, però bisogna forse tener conto dei ragazzi che forse prima erano in DAD e che adesso sono tornati in classe. Qualche classe a Pescara alle scuole superiori è ancora in DAD, alle scuole dalla primaria alla scuola media per fortuna sono tornati tutti in classe, quindi non abbiamo questi numeri. Però sono numeri che ci tengono ad essere molto attenti. Ci sono anche gli screening che procedono a ritmo spedito? Allora, la situazione sicuramente è sotto controllo, non bisogna mai abbassare la guardia. Noi stiamo facendo screening tutti i giorni, tamponi che vanno dal lunedì al venerdì allo stadio e il sabato e la domenica lo facciamo alla scuola media Foscolo. La novità interessante è quella che dal 16 di dicembre si aprirà lab per i bambini dai 5 agli 11 anni. Questa struttura sarà aperta all'associazione di Porta Nuova. Per quanto riguarda invece i vaccini di studenti, mi pare che ci sia un bell'incremento, no? C'è una grande affluenza di partecipazione a fare i vaccini, siamo partiti già con la seconda e anche con la terza dose, ma la novità importante è che tanti ragazzi stanno facendo la prima dose.